La rivoluzione francese e l'età napoleonica sono periodi complessi collegati tra loro strettamente connessi tra loro ma molto complicati e ho dedicato a questi temi vari video che vi linko in descrizione ma forse serve per chi l'ha già studiata questa parte di storia e vuole solo ripassarla velocemente anche un riassunto generale abbastanza veloce e relativamente veloce di questa lunga fase storica che ha segnato la Francia e l'Europa tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento. Oggi tenterò di riassumervi, spiegarvi a grandi linee rivoluzione francese ed età napoleonica tutto in una sola ora. Andiamo a cominciare. Un solito di caffè nella tazza con la scritta andiamo a cominciare che dico sempre di solito prima dell'inizio di ogni video come ci sono i compagni d'avventura Ciotoponino Tostoi, Batman De Andrè e Lenfone Mosso Peloso io mi chiamo Ermanno Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori insegno nel liceo scientifico Tiro Vigo e da un paio d'anni sto realizzando su questo canale delle video spiegazioni di storia, di filosofia e di educazione civica in genere andando in profondità nei vari argomenti e facendone a livello direi da superiori e forse anche da università ma altre volte facendo anche dei bei diassuntoni come il caso di oggi in cui stiamo cercando di presentare tutta la storia dal 1789 al 1815 quindi 26 anni di storia francese ed europea in un'ora infatti ho qui un cronometro che mi tiene conto dei vari minutaggi e andrò via abbastanza veloce iniziamo cosa fu la rivoluzione francese? Fu un grande fenomeno che scoppiò in Francia nel 1789 che cambiò la faccia della Francia e dell'Europa, almeno dell'Europa continentale facendo morire definitivamente il vecchio regime, l'ancien regime il vecchio modo di gestire gli stati e proponendone uno nuovo certo fu un percorso anche abbastanza graduale nonostante abbia parlato di scoppio perché ci fu la rivoluzione, ci fu Napoleone, poi ci fu la restaurazione e poi varie vicissitudini però sicuramente rappresenta un punto di svolta, un punto di cesura tutto iniziò nel 1789, a partire dal giugno del 1789 perché? Perché la Francia versava in condizioni difficili in quel periodo soprattutto le casse dello Stato francese versavano in condizioni molto difficili 700 è un secolo di grandi e numerose guerre, guerre molto impegnative la Francia già da 600 aveva cominciato a varare con i suoi vari sovrani una politica di potenza una politica molto aggressiva che la portava a combattere in moltissime guerre ma queste guerre rispendiose avevano via via aumentato il debito pubblico avevano creato grandi problemi finanziari alla Francia problemi che la Francia non era mai riuscita veramente ad affrontare e risolvere nel corso del 1700 c'erano stati dei tentativi per risanare le casse dello Stato ma erano tutti falliti alla fine nel 1789 il re in carica che si chiama Luigi XVI decide di chiedere una mano al popolo e convoca i cosiddetti stati generali gli stati generali erano un'assemblea di origine medievale che non si convocava più da 180 anni circa 175 anni circa dall'inizio del 600 in Francia in cui erano rappresentati i cosiddetti tre stati cioè la nobiltà, il clero cioè gli uomini di chiesa e il cosiddetto terzo stato cioè tutti gli altri borghesi, artigiani eccetera in questa assemblea il re meritava di chiedere un aiuto a questa assemblea militava di chiedere un aiuto l'assemblea sarebbe riunita a Versailles vicina a dove si trovava il re nella stessa reggia e lì il re avrebbe chiesto uno sforzo a tutti di pagare le tasse di aumentare le tasse e di aiutare a risanare questo debito pubblico il problema è che quando si riuniscono gli stati generali ci sono forti divisioni all'interno dei vari stati nel senso che nobiltà e clero rappresentano in tutto il 2% della popolazione francese quindi una estrema minoranza eppure negli stati generali hanno praticamente i due terzi dei voti perché negli stati generali il meccanismo di voto è un meccanismo perceto cioè all'interno dei tre gruppi nobiltà, clero e terzo stato ogni gruppo esprime un solo voto quindi i nobili smettono accordo tra loro e esprimono un voto sì o no alle varie proposte il clero idem, il terzo stato idem quindi se nobiltà e clero si alleano tra loro e molto spesso questo avveniva due voti su tre andavano a favore di nobiltà e clero e il terzo stato che però rappresentava il 98% della popolazione francese valeva per un terzo questo crea subito ridissimi il terzo stato chiede di cambiare i vecchi meccanismi di voto durante le settimane precedenti alla convocazione inizia anche a raccogliere le varie lamentelle della popolazione nei cosiddetti cahiers de doléancese che servono a esprimere tutto il malcontento del popolo francese che è stufo di pagare le tasse quando i nobili non le pagano è stufo di tirare la carretta quando il clero non fa la sua parte e questo porta a dissidi difatti nel giugno luglio del 1789 il terzo stato dopo qualche seduta di questi stati generali decide lo strappo i membri del terzo stato infatti in polemica con l'organizzazione della situazione decidono di uscire dagli stati generali e riunirsi in una sala apposita un'altra sala di Versailles che si chiama sala della pallacorda perché era una specie di palestra in cui si giocava il gioco della pallacorda e costituirsi assemblea nazionale dicono noi d'ora in poi cambieremo il sistema di voto faremo la soli e faremo una costituzione per la Francia fanno partire così la rivoluzione cioè questi parlamentari delegati del terzo stato dicono noi senza chiedere niente nessuno scriviamo una nuova costituzione questa mossa in attesa genera la svolta perché poi le notizie iniziano a girare a Parigi la folla esulta il re è preso in contropiede non sa bene come muoversi potrebbe fare arrestare questi delegati ma ha paura che questo comporti poi dei cambiamenti ancora peggiori insomma tra fine giugno e inizio luglio la situazione sembra dare una svolta rapida non a caso il 14 luglio giornata che poi diventerà simbolo del 1789 la gente di Parigi infervorata da queste notizie che arrivano da Versailles decide anche di attaccare la Bastiglia la Bastiglia era una fortezza un carcere che c'era a Parigi dove a volte venivano detenuti prigionieri politici c'erano anche delle armi insomma il popolo contento di questo cambiamento desideroso di cambiare finalmente le cose attacca la Bastiglia e quello è l'evento simbolo ma in realtà sono giornate convulse tutto luglio e tutto agosto del 1789 presentano grandi novità molto rapide e molto veloci intanto si va a formare la cosiddetta guardia nazionale cos'è? è una specie di milizia borghese legata al terzo stato ma direi anche agli strati più moderati del terzo stato perché a guidarla è tra l'altro un nobile che si chiama Lafayette e però avrà un ruolo molto importante questa guardia nazionale poi il 4 agosto del 1789 l'assemblea nazionale che continua a riunirsi decide di abrogare il regime feudale abroga tutte le leggi che riguardavano il feudalesimo di fatto cancella il feudalesimo e quindi segna definitivamente la fine del vecchio regime dell'anzionale regime in più il 26 agosto sempre dell'89 viene proclamata la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che è un altro dei simboli di questa fase rivoluzionaria in cui i delegati dell'assemblea nazionale presentano i nuovi diritti che secondo loro tutti i cittadini ugualmente in Francia dovevano avere e che di cui erano portatori il re ripeto preso la sprovvista tituba non sa bene come muoversi ma continua a titubare perché tra l'altro proprio in questi giorni in cui si stava volendo il regime feudale si stava avrando la dichiarazione eccetera il re è costretto sul malgrado a lasciare Versailles a spostarsi a Parigi una marcia di donne che da Parigi va a Versailles va a prenderlo proprio quasi di peso e lo portano a Parigi perché sono convinte che Versailles sia troppo distante non sia facile tenere sotto controllo il re sapere quello che avviene a Versailles invece a Parigi alle Tuilerie la vecchia reggia dei sovrani abbandonata già nel 600 sarà meglio tenere lo sott'occhio quindi il re è quasi tra virgolette ostaggio dei rivoluzionali però c'è da dire che per ora non sa bene come muoversi non sa bene cosa fare ultima cosa importante da fine 89 inizio 90 l'assemblea nazionale decide anche di chiudere tutti gli ordini contemplativi cioè quegli ordini monastici di suori, di frati, di monaci che si occupavano non di assistenza ai malati non di opere di bene ma della preghiera tutti questi ordini vengono soppressi e chiusi i conventi vengono requisiti le terre soprattutto passano sotto il potere dello Stato perché fanno questo? perché vogliono terre per poter risanare il debito pubblico queste terre vengono in parte messe all'asta e rivendute in parte fungono da base per i cosiddetti assegnati nuovi titoli di Stato con cui l'assemblea nazionale intende ripianare il debito pubblico tutto era scoppiato proprio per via del debito pubblico adesso requisendo queste terre l'assemblea nazionale spera di metterci una pezza ovviamente all'interno di questa assemblea nazionale che sta scrivendo la Costituzione iniziano a emergere anche le prime personalità e non solo anche i primi gruppi politici che all'epoca venivano chiamati club non erano ancora veri i propri partiti però gruppi in cui si ritrovavano alcuni uomini da idee molto simili, molto vicine questi gruppi spesso hanno anche un loro giornale quindi si inizia a fare politica vera diciamola così i gruppi più importanti ce ne sono vari che si succedono sono gruppi più moderati più debiti al cambiamento progressisti ma in questa prima fase direi citerei sicuramente i Cordiglieri che è un gruppo abbastanza progressista ma non eccessivamente progressista i principali esponenti sono Danton e Marat e poi soprattutto iniziano a emergere i Giacobini inizialmente è un gruppo piuttosto minuto però un po' alla volta inizieranno a crescere il nome di questi gruppi deriva spesso dal convento in cui si riunivano ex convento perché i conventi sono stati chiusi e adesso vengono utilizzati per le riunioni dei partiti da Giacobini sicuramente il nome principale è quello di Robespierre di cui parleremo ancora però poi c'è anche Brissot ce ne sono anche altri generalmente questi uomini politici sono tutti esponenti del terzo stato per lo più ma anche provengono dalla carriera di giornalisti o meglio ancora di avvocati sono giovani avvocati che si sono formati magari anche agli ideali luministi e adesso stanno cercando di mettere in atto quegli ideali trasformarli in cose vere leggi e riforme quali riforme? beh intanto si discute molto in questo primo anno di rivoluzione di come garantire il diritto di voto si sta scrivendo questa costituzione bisogna capire chi poi andrà a votare la soluzione che viene scelta dopo ampia discussione è una soluzione di compromesso cioè la cittadinanza viene divisa in due tra cittadini attivi e cittadini passivi più o meno a metà diciamola così perché i cittadini attivi sono gli unici che hanno diritto di voto i passivi non hanno nessun diritto di voto e quindi non partecipano alle elezioni più o meno il piatto metà e metà i cittadini attivi sono quelli che hanno un reddito medio-alto quindi vengono esclusi diciamo i portatori di un reddito molto basso reddito medio-alto però attenzione non tutti i cittadini attivi possono poi essere eletti tutti i cittadini attivi possono votare ma non tutti possono essere eletti perché solo chi ha invece una rendita fondiaria cioè a terre può essere eletto quindi si restringe il diritto di voto un soffraggio ristretto basato sul censo però questo è il compromesso che si trova c'è da dire poi che si tenta di trovare una soluzione anche per la chiesa come vi ho detto si è scelto di chiudere i conventi cosa che ha indispettito molto la chiesa cattolica ma bisogna anche gestire soprattutto i vescovi e i parroci che rappresentano un potere abbastanza forte all'interno della Francia proprio per questo motivo nel 1790 viene creata la cosiddetta costituzione civile del clero cioè una riforma che prevede che tutti gli uomini di chiesa giudino fedeltà alla nuova costituzione che si sta scrivendo e alla nuova Francia che si sta creando ma soprattutto impone la trasformazione di queste cariche che in quelle sostanzialmente di funzionari pubblici cioè il parroco, il vescovo eccetera oltre ad aver giurare verrà stipendiato dallo Stato ma sarà la sua carica una carica elettiva cioè i fedeli di una parrocchia eleggeranno il loro parroco i fedeli di una diocesi eleggeranno il loro vescovo ovviamente buona parte della chiesa non è d'accordo con questa decisione il Papa la condanna duramente infatti quasi tutti i vescovi rifiuteranno di prestare il giuramento e rifiuteranno il cambiamento verranno chiamati i vescovi refrattari perché non accetteranno questa costituzione civile del clero tra i parroci invece c'è tra il basso clero c'è una frattura circa metà la appoggia circa la metà invece la rifiuta quindi avremo i preti refrattari quelli che rifiutano avremo anche i preti cosiddetti costituzionali che invece appoggeranno questo cambiamento però capite è un cambiamento epocale in più l'assemblea nazionale decide anche di ridisegnare la Francia dividendola in cosiddetti dipartimenti cioè si creano delle zone oggi le diremmo province molto uniformi più o meno grandi uguali con un capoluogo più o meno al centro molto razionali per dividere e diciamo anche gestire in maniera parzialmente federale la Francia si cerca di decentrare diciamola così il potere tutto questo porta alla fine alla realizzazione di questa costituzione che verrà chiamata costituzione del 91 perché viene varata alla fine del 1791 questa costituzione è basata sulla divisione dei poteri tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario come i maestri dell'illuminismo come Montesquieu aveva insegnato il potere giudiziario in mano ai giudici il potere legislativo in mano a un'assemblea che viene chiamata l'assemblea legislativa eletta appunto a suffragio ristretto su base censitaria ogni due anni e infine il potere esecutivo in mano al re al sovrano Luigi XVI che nomina i suoi ministri ministri che non possono far parte dell'assemblea il re ha un parziale diritto di veto sulle leggi ma che è aggirabile nella legislatura successiva la posizione di Luigi XVI però è delicata se hai visto scrivere questa costituzione non ci hai messo il becco se l'hai vista fare dall'assemblea nazionale una costituzione che sta trasformando la Francia da una monarchia assoluta perché prima era una monarchia assoluta a una monarchia costituzionale con divisione dei poteri, parlamento eccetera e il re per ora ripeto piuttosto debole non interviene ma è chiaro che è abbastanza preoccupato di fatti poco dopo il valo di questa costituzione tenta una celeberrima fuga cioè raduna la sua famiglia anche sua moglie Maria Antonietta che è austriaca e di notte scappa scappa in carrozza con l'idea di passare il confine di passare nei cosiddetti paesi baschi austriaci cioè nel Belgio dove ci sono gli austriaci, parenti della moglie e dove magari lui pensa potrebbero organizzare le forze per fare guerra alla Francia al suo paese, alla rivoluzione sconfiggere i rivoluzionari e rimettere in piedi la monarchia assoluta la fuga va male perché viene catturata una città vicino al confine e viene riportato a Parigi per il momento si mette a tacere la sua fuga il popolo non sa che ha tentato la fuga però è chiaro che la situazione sta degenerando nel frattempo viene eletta la prima assemblea legislativa cioè il primo parlamento con la nuova costituzione dove ci sono varie forze politiche diciamo che il pallino sembrano averlo i moderati, i costituzionali quelli che sono d'accordo a dire abbiamo fatto la rivoluzione abbiamo un sistema costituzionale a posto così ma in realtà la situazione è tutt'altro che pacificata perché all'inizio del 92 scoppia la guerra sono passati due anni e mezzo dall'inizio della rivoluzione francese adesso Austria e Prussia che sono state a guardare con grande preoccupazione quello che avveniva in Francia decidono di attaccare non vogliono che quello che è accaduto in Francia si possa ripetere in altre parti d'Europa in Austria e in Prussia ci sono monarchie assolute non vogliono che Luigi XVI sia tra virgolette ostaggio di questi rivoluzionari quindi c'è una guerra guerra a cui il Parlamento francese aderisce con un certo entusiasmo perché anche gli stessi parlamentari francesi sono convinti che una guerra sia necessaria adesso per addirittura dice qualcuno espandere la rivoluzione la guerra inizialmente va molto male per la Francia che è impreparata anche perché molti membri dell'esercito sono scappati gli ufficiali erano tutti nobili i nobili quando hanno visto come sta degenerando la rivoluzione che stanno espropriando che stanno abolendo il regime feudale eccetera se ne sono scappati all'estero quindi l'esercito francese è abbastanza disorganizzato incappe in alcune clamorose sconfitte tanto è vero che Austria e Prussia sembrano vicine a invadere la Francia ad averla meglio ma a quel punto il popolo francese si convince che il re Luigi XVI che è a Parigi stia tra virgolette facendo il tifo per i nemici stia collaborando con i nemici e ne hanno anche qualche motivo per ritenere questa collaborazione del re con il nemico e il popolo francese quindi di fatto attacca il palazzo reale e chiede l'arresto di Luigi XVI Luigi XVI viene effettivamente arrestato sospettato di complicità e il Parlamento inizia a discutere di cosa farne di questo re soprattutto abbiamo appena scritto una costituzione passato neanche un anno una costituzione di una monarchia parlamentare costituzionale ma adesso cosa facciamo arrestiamo il re cambiamo le cose c'è molto dibattito sulla questione anche perché la guerra sta continuando bisogna dire che nel giro di poco tempo le cose cambiano rapidamente intanto l'esercito francese riesce a riorganizzarsi e ottenere una importante vittoria la vittoria di Valmy contro gli austriaci e i prussiani segno che forse un esercito popolare può farcela forse può reggere forse può davvero dare una svolta c'è da dire anche che contemporaneamente a questa grande vittoria di Valmy che esalta gli animi il Parlamento francese decide di intanto non è più l'assemblea legislativa ma si è creato un nuovo Parlamento la Convenzione che deve scrivere una nuova costituzione e questa Convenzione abolisce la monarchia e dichiara la nascita della Repubblica quindi prima Repubblica francese le cose cambiano ulteriormente poi soprattutto bisogna decidere cosa fare di questo sovrano di questo Luigi XVI c'è grande dibattito vi dicevo ci sono molte forze politiche ma ne emergono due che hanno un peso fondamentale nel dibattito sul destino del re sono due forze che avevano fatto parte dei Giacobini iniziali ma che ora si erano divise si chiamano in questa fase Girondini e Montagnardi i Girondini sono quelli di Brissot sono quelli che volevano la guerra che volevano l'espansione rivoluzionaria ma che adesso vorrebbero sì la Repubblica ma una Repubblica moderata quindi vorrebbero che ci usasse clemenza col re il re non dovremmo fargli niente dovremmo a limite esiliarlo ma non ucciderlo i Giacobini invece comandati da Robespierre vogliono invece grande durezza vogliono la messa a morte del re alla fine prevalgono i Montagnardi possiamo anche chiamarli direttamente Giacobini di Robespierre il re viene processato e viene messo a morte nel gennaio del 1793 nasce la Repubblica una Repubblica che nasce anche nel sangue possiamo dire con questa mossa molto dura di uccidere il sovrano Luigi XVI c'è da dire che in questa fase è emersa una nuova forza sociale molto forte che è quella dei Sanculotti il popolo parigino Sanculotti vengono chiamati così perché portano i pantaloni in unghie non le culotte cioè i pantaloni che arrivavano al ginocchio accusavano invece i nobili il popolo parigino inizia a dire la sua inizia a premere per riforme più radicali inizia a premere per cambiamenti più forti e Robespierre si fa interprete di quei desideri sono i Sanculotti e Robespierre infatti da volere la messa a morte del re che poi viene eseguita appunto nel gennaio del 93 siamo all'inizio del 93 la situazione è ancora molto caotica è nata la Repubblica ma la convenzione sta scrivendo una nuova costituzione che manca per il momento il re è stato ucciso la guerra con Austria e Prussia sta continuando anche se la Francia adesso ha ottenuto alcune vittorie e ha potuto respirare un po' si è potuta alleggerire la situazione però bisogna capire come si evolve la situazione la lotta tra Girondini e Montagnardi riguardo al destino del re agli strascichi nel senso che i Montagnardi cioè quelli che possiamo anche direttamente chiamare Giacobini fanno arrestare molti Girondini accusandoli di trarimento accusandoli di essersi schierati contro la Francia e i Sanculotti ripeto continuano a fare grande pressione la Convenzione questo nuovo Parlamento che sta scrivendo la Costituzione decide di affidare momentaneamente il potere a un nuovo organismo che viene chiamato Comitato di Salute Pubblica una sorta di governo con pieni poteri formato da nove membri che dovrà gestire la situazione così caotica finché non viene scritta la Costituzione questo Comitato di Salute Pubblica ripeto formato da nove membri è guidato in realtà da Robespierre questo leader dei Giacobini che ormai ha in mano la situazione e da quando questo Robespierre sale al potere del Comitato di Salute Pubblica inizia un periodo di circa un anno tra la metà del 93 e la metà del 94 che passa la storia come il periodo del terrore perché il Comitato di Salute Pubblica effettivamente gestisce il potere in modo molto molto duro facendo arrestare i girondini come vi ho detto facendo arrestare molti esponenti degli altri partiti moderati e molto spesso mandandoli anche a morte usando il pugno di ferro contro chiunque sembri vicino a tradire oppure a voler moderare gli effetti di questa rivoluzione quindi è una situazione d'emergenza una situazione però gestita con grande durezza praticamente una dittatura violenta e anche forse per certi versi totalitaria del Comitato di Salute Pubblica che vara molte riforme in questo anno ad esempio riforme anche ideali nel senso che viene cambiato il calendario per esempio non si usano più i vecchi numeri mesi se ne usano degli altri più laici più razionali si cambia la settimana non più divisi in sette giorni ma in dieci perché è più razionale anche questo si cambiano i giorni di festa i santi eccetera insomma si attua un processo di scristianizzazione molto forte e di laicizzazione dello Stato molto forte anche a livello simbolico anche parlando di giorni di mesi eccetera in più tra le varie riforme Rubenspire propone il maximum e la leva di masso obbligatoria cosa vuol dire maximum è un calmiere dei prezzi visto che la guerra sta provocando una forte inflazione cioè il costo della vita sta salendo i prezzi dei beni stanno salendo Rubenspire impone per legge che il prezzo del pane di prodotti di prima necessità non possa superare una certa soglia stabilisce il prezzo massimo del pane di altri prodotti si chiama in linguaggio tecnico calmiere dei prezzi la legge si chiama maximum perché impone il prezzo massimo per questi beni cosa molto credente ai sanculotti che stanno vedendo i prezzi alzarsi e fanno fatica a tirare arrivare alla fine del mese diciamola così in più oltre al maximum vi ho detto la leva di massa obbligatoria cioè visto che la guerra continua che la guerra è impegnativa si chiamano all'esercito tutte le varie classi d'età della popolazione di massa non più solo alcuni ma tutti perché c'è bisogno dello sforzo di tutti questo periodo del terrore è molto duro viene anche molto criticato perché viene messa a morte molta molta gente e altrettanta gente viene incarcerata e porta però anche alla fine di Robespierre perché dura appunto circa un anno nel frattempo nel 93 viene anche varata la costituzione nuova della convenzione che però non viene mai applicata quindi la seconda costituzione quella del 93 è carta straccia cioè viene scritta ma mai applicata ma appunto come vi dicevo nel luglio del 94 in particolare il 9 Termidoro Termidoro era il nuovo mese che viene il nuovo nome dei mesi che viene dato dalla rivoluzione 9 Termidoro del 94 Robespierre viene arrestato in fretta e furia dai suoi nemici e ghigliottinato nel giro di poco tempo senza praticamente un processo per evitare che possano i suoi fedelissimi organizzare una resistenza gli oppositori di Robespierre riescono a farlo fuori fanno fuori lui e i suoi uomini di fiducia con lo stesso metodo con cui Robespierre aveva fatto fuori fino a quel momento molti oppositori politici cioè con la ghigliottina serve dire che nei mesi successivi alla caduta di Robespierre si scatena un contoterrore o terrore bianco con cui i superstiti si vendicano di Giacobini e quindi violenza ancora la guerra sta continuando tra l'altro è entrata in guerra pure in Inghilterra cioè sta diventando piuttosto difficile e caotica ma nel frattempo si tenta di scrivere una nuova costituzione dopo la prima del 91 la seconda del 93 ma è applicata bisogna scriverne una terza alla fine questa costituzione viene varata nel 95 quindi terza costituzione in 4 anni è una costituzione moderata che si richiama in pratica quella del 91 ritorna un po' su certi elementi più moderati viene creato sempre di visione dei poteri come gestore del potere esecutivo visto che non c'è più il re un nuovo organismo chiamato direttorio formato da 5 membri il governo in pratica questo direttorio cerca di gestire la situazione lo fa con molta fatica perché ci sono in realtà molte diciamo congiure e molti tentativi di rivoluzione in questi anni sia da parte dei monarchici quindi quelli che vorrebbero far ritornare un nuovo re sia da parte di quelli che erano magari vicini ai giacobini e vorrebbero invece ritornare a riforme più forti ad esempio si segnala la congiura degli eguali di Babbeuf che è una congiura quasi proto-comunista che però viene debellata abbastanza rapidamente tutto questo porta il direttorio in questo caos in questa bagarre a tentare di prendere più fortemente in mano la situazione infatti nel 1797 perché intanto i mesi passano c'è un nuovo colpo di stato chiamato colpo di stato del 18 frutti d'oro perché è il nuovo mese siamo in estate del settembre del 97 con cui il direttorio assume maggiori poteri instaura una semi-dittatura per gestire i poteri la cosa importante da notare è che il direttorio riesce a fare questo colpo di stato soprattutto grazie all'aiuto dei militari sta acquisendo sempre più potere all'interno della Repubblica l'esercito esercito che vedremo presto dominerà la scena siamo al 1797 e in particolare un uomo dell'esercito inizia a emergere è un giovane generale appena 26 anni si chiama Napoleone Bonaparte nato in Corsica anch'essi di famiglie di origini italiane quindi nella Corsica francese quando la Corsica era già diventata francese però appunto suo padre era italiano questo Napoleone Bonaparte viene incaricato nel 1797 dal direttorio di una missione la missione è quella di scendere in Italia e distrarre le forze austriache perché il direttorio è un piano vuole attaccare l'Austria e vuole andarla ad attaccare in Austria quindi verso Vienna ma vuole fare condurre questo attacco su due direttrici il grosso delle forze punterà su Vienna e una seconda armata spingerà invece sul nord Italia che era in mano gli austriaci per distrarre una parte delle forze austrieche dalla difesa di Vienna quindi Napoleone diciamo ha il compito di guidare l'armata che deve fare da diversivo deve distrarre gli austriaci in realtà la prima armata l'armata più grossa quella che deve attaccare Vienna non ottiene risultati invece l'esercito di Napoleone nonostante Napoleone sia giovanissimo ottiene ottimi risultati penetra nel nord Italia sconfigge i piemontesi avanza sconfigge gli austriaci in tutta la Lombardia fino alla battaglia di Rivoli veronese siamo sempre nel 1797 in cui Napoleone sbaraglia l'esercito austriaco e di fatto costringe gli austriaci a trovare un accordo il trattato di pace viene firmato da Napoleone stesso senza neppure sentire il direttorio ormai lavora come se fosse lui il capo nonostante non abbia ancora 30 anni vi dicevo il trattato di pace viene firmato a Campoformio ed è famoso come trattato di Campoformio e stabilisce alcune cose importanti in primo luogo il nord Italia passa sostanzialmente ai francesi e con esso anche l'Emilia che è stata ceduta nel frattempo dal Papa ai francesi non passa direttamente ai francesi perché in realtà lì si creano delle repubbliche repubbliche formalmente indipendenti ma in realtà strettamente legate alla Francia tant'è vero che verranno chiamate repubbliche sorelle la repubblica cisalpina cispadana eccetera in cambio per questa concessione che l'Austria fa alla Francia di sostanzialmente allungare le mani sul nord Italia Napoleone concede all'Austria la Repubblica Veneta il Veneto la serenissima la Repubblica di Venezia era autonomo da mille anni praticamente o quasi un po' meno però aveva una storia secolare nonstante era fosse stato sconfitto Napoleone lo regala di fatto all'Austria che quindi si prende il Triveneto l'Istria la Dalmazia tutti i procedimenti della Repubblica di Venezia quindi questo segna la fine della Repubblica di Venezia nel frattempo però in Italia non è finita perché praticamente è quasi tutto in mano i francesi tramite queste repubbliche ma il Papa che si chiama Pio VI è molto preoccupato della cosa ceduto dei territori ma è impaurito e mette a morte fa mettere a morte alcuni filo francesi che ci sono all'interno dello Stato della Chiesa questo provoca l'intervento dei francesi che invadono anche lo Stato della Chiesa arrestano il Papa sostanzialmente e infatti a Roma viene creata una nuova repubblica chiamata Repubblica Romana anch'essa Repubblica Sorella a questo punto i Borboni di Napoli offesi dal fatto che il Papa sia stato trattato in questo modo decidono di attaccare la Repubblica Romana da sud ma vengono sconfitti perché la Repubblica Romana è sostenuta dai francesi e i francesi invadono anche la Repubblica di cioè la Repubblica scusate il Regno di Napoli il re i Borboni e i Napoli sono costretti a scappare in Sicilia e a Napoli si forma una nuova repubblica chiamata Repubblica Partenopea di fatto tutta l'Italia in un modo o nell'altro è sotto il controllo francese ormai a parte le isole tutta l'Italia diciamo la penisola è sotto il controllo dei francesi che hanno creato varie repubbliche queste repubbliche e sorelle però in realtà che si erano create anche tra l'entusiasmo dei filo giacobini italiani dei borghesi italiani in realtà tradiranno molto le attese nel senso che i francesi useranno queste repubbliche che dureranno anche poco un paio d'anni soprattutto come come diciamo strumenti geopolitici potremmo dire come luoghi in cui prendere soldi soprattutto e come una zona che possa fornire una sorta di stato cuscinetto una serie di stati cuscinetto per proteggere la Francia non faranno grandissime riforme qualcosa sì qualche riforma francese viene portata anche in Italia ma non tantissimo quindi si deluderanno molto le attese e c'è da dire anche che in certe zone d'Italia i francesi non saranno ben accolti ad esempio nel sud Italia proprio per via del fatto che i francesi hanno cacciato il re ma sono anche visti come nemici della chiesa molte volte perché arrestano i papi perché varano la costituzione civile del clero e cose di questo genere ecco nel sud Italia si formerà un esercito popolare antifrancese chiamato Armata della Santa Fede o i Sanferisti guidato da un cardinale che si chiama Ruffo che combatterà contro i francesi per riportare i Borbone sul trono napoletano mentre l'Italia tra il 97 e il 99 vive questa situazione Napoleone torna in Francia ha sconfitto gli Ostici quindi la guerra con gli Ostici per il momento è in pausa l'unico vero grande nemico che rimane in guerra con la Francia al momento è il Regno Unito è l'Inghilterra bisogna provare a sconfiggerla allora il direttorio che ha ancora il potere decide di attaccare l'Inghilterra non invadendola cosa che sarebbe stata molto difficile ma colpendola sul lato economico ad esempio sulle zone su cui commerciava e quindi decide di inviare Napoleone in Egitto addirittura che è anche un modo per tenere questo arrembante generale lontano da Parigi in Egitto perché lì in Egitto l'Inghilterra aveva grossi affari l'Egitto costituiva anche un punto di scambio importante tra le colonne inglesi dall'altra parte e il Mediterraneo e quindi l'Europa Napoleone va in Egitto con l'intento di danneggiare gli inglesi effettivamente sbarca ad Alessandria d'Egitto ottiene grandi vittorie con il regime locale dei mamelucchi degli egiziani ma il problema è che mentre Napoleone ottiene grandi vittorie in Egitto la sua flotta che è ancorata vicino ad Alessandria viene completamente distrutta dall'ammiraglio Nelson capo militare della marina britannica quindi Napoleone pur ottenendo ottime vittorie in Egitto rimane bloccato in Egitto perché senza le navi non può riportare quelle migliaia di uomini che si è portate in Egitto in Francia e infatti Napoleone resterà in Egitto quasi un anno fino tra il 98 e il 99 bloccato lì e questa sua lontananza dalla Francia e dall'Europa permetterà anche a austriaci russi di riorganizzarsi e attaccare ad esempio le repubbliche surale in Italia e farle cadere alla fine Napoleone riesce finalmente a tornare in Francia si arriva nel 99 dove quando arriva incontra un uomo politico francese un abate in realtà si chiama Sieye che gli fa un'offerta questo Sieye era stato uno dei nomi più importanti delle prime fasi della rivoluzione ancora nel 1789 adesso invece siamo al 99 sono passati 10 anni e questo Sieye si è convinto che l'ultima costituzione la terza quella del 95 vi ricordo 91 93 95 le tre costituzioni sia una costituzione imperfetta c'è già stato un colpo di stato nel 97 l'abbiamo detto ma sostanzialmente secondo Sieye non si riesce a governare questa Francia bene bisogna cambiarla ulteriormente bisognerebbe fare una nuova costituzione accentrare un po' il potere e quindi propone a Napoleone che è ancora giovane sostanzialmente di fare un colpo di stato io sono la mente tu sei il braccio tu sei un grande militare che ottiene grandi vittorie facciamo un colpo di stato cambiamo le cose scriviamo una nuova costituzione e rendiamo stabile questo ordinamento francese questa è l'offerta Napoleone all'inizio è un po' titubante poi aderisce e di fatto nel Brumaio del 1799 tra il 18 e il 19 Brumaio Brumaio corrisponde più o meno a novembre del 99 avviene il colpo di stato Napoleone minaccia il Parlamento chiede che venga scritta una nuova costituzione il Parlamento rifiuta ma alla fine cede perché Napoleone arriva con l'esercito insomma nasce un nuovo ordinamento verrà scritta proprio nel 99 la quarta costituzione quindi sono 91 93 95 99 momentaneamente Napoleone prende il potere come consul e difatti viene varato il consolato tre uomini che guidano momentaneamente la Francia i tre uomini sono Napoleone stesso CIE la parte che gli aveva proposto il piano e Ducot che è un ex membro del direttorio questi tre membri guidano la situazione fino a che non viene varata la nuova costituzione che sarà la costituzione del 99 che prevede il consolato in maniera stabile solo che di nuovo tre consoli tre consoli che però non saranno paritetici perché il primo console che poi sarà Napoleone stesso ha un potere molto maggiore rispetto agli altri due consoli gli altri due consoli hanno un compito prettamente consultivo il primo console ritiene il potere esecutivo non solo ha anche il potere di proporre le leggi leggi che poi vengono approvate dal Parlamento ma capite bene che il Parlamento può solo approvare o smentire leggi scelte da proposte dal primo console quindi di fatto si sta creando una dittatura in cui il primo console ha tutti i poteri nella costituzione del 99 è previsto che il primo console abbia un potere della durata di dieci anni come tutti gli altri consoli poi in realtà vediamo che non durerà però decennale quindi anche un potere lungo e si prevede anche che questa prima questa nuova costituzione del 99 che prevede il consolato riceva anche l'approvazione popolare si va a resuffragio universale maschile quindi non più divisioni in base al censo tutti possono votare sempre nel 99 avviene il primo plebiscito si chiama cioè vanno a votare tutti i maschi francesi o meglio possono votare tutti i maschi francesi e gli si chiede vuoi tu approvare o no la nuova costituzione sì o no per questo è un plebiscito perché non si chiede di eleggere qualcuno ma di esprimere un sì o un no va a votare circa la metà degli eventi diritto quindi c'è un grande astensionismo ma vince sì con circa il 99 erotti per cento dei voti cioè è appunto come si usa di non plebiscito tutti votano sì anche perché il voto è sostanzialmente palese non c'è un reale voto segreto per Napoleone è una grande vittoria questa manovra del consolato non durò in realtà moltissimo nel 99 c'era stata il colpo di stato come vi dicevo già nel 1802 Napoleone decise di farci nominare console a vita quindi cambiare quel limite di dieci anni che vi dicevo e fece approvare tramite un plebiscito questa sua mossa due anni dopo nel 1804 decise addirittura di abolire tutto via consolati e si fece proclamare imperatore ancora una volta con un plebiscito plebiscito in cui il 99 erotti per cento votò sì tra l'altro proprio nel 1804 si tenne a Parigi a Notre Dame una celeberrima cerimonia in cui Napoleone invitò il Papa Pio VII non più quello di prima successore per farsi incoronare ma in realtà non si fece incoronare perché come forse già saprete prese la corona dalle mani del Papa e se la mise in testa da solo e poi la mise sulla testa della moglie come a simboleggiare che il suo potere non derivava dal Papa ma da se stesso in un certo senso quindi Napoleone si proclama imperatore e nasce il primo impero come fa Napoleone a fare tutto questo i plebisciti come fanno ad andare così bene com'è possibile che un uomo venuto quasi da nulla possa avere tutto questo potere beh Napoleone si muove con grande intelligenza politica e militare ha tre elementi sostanzialmente che ne rafforzano la posizione e il consenso primo elemento le grandi vittorie militari perché continuano a tenere grandi vittorie adesso le vediamo secondo elemento l'accordo che raggiunge con la Chiesa terzo elemento la lotta contro tutti gli oppositori allora parliamo delle vittorie militari effettivamente già nel 1800 dopo torniamo indietro al momento del colpo di stato del Brumaio del 99 torna in Italia nel 1800 inizia a sconfiggere di nuovo gli austriaci li sconfiggia un po' rappertutto e già tra il 1801 e il 1802 riesce anche a sconfiggere i suoi nemici sulla riva del Reno quindi in Germania quindi tra l'800 e il 1802 ha sconfitto tutti i possibili nemici che ci sono sull'Europa continentale in Italia vengono ripristinate le repubbliche sorelle poi diventerà regno d'Italia eccetera e anche nella zona tedesca la Francia mette in piedi varie situazioni vari stati sapelliti in pratica quindi Napoleone dal punto di vista militare è impattibile questo non fa altro che alimentare il suo consenso in Francia viene molto amato per questo arriva nel 1802 anche una momentanea pace con l'Inghilterra quindi insomma dal punto di vista militare Napoleone sembra non avere alcun rivale dal punto di vista religioso come vi dicevo tra stato francese e chiesa cattolica c'era stata una grandissima frattura c'era stata con la costituzione civile del clero c'era stata con anche l'arresto di Pio VI poi non viene anche citato il fatto che a un certo punto in alcune zone della Francia ci sono delle rivolte come quella della Vandea di alcune regioni che in cui alimentati proprio dalla chiesa la gente si rivolta contro i rivoluzionari adesso Napoleone mette fine a tutte queste proteste nel 1801 viene firmato un concordato un accordo cioè tra Napoleone e la chiesa cattolica un accordo che cancella la costituzione civile del clero che di fatto ripristina in parte i diritti della chiesa cattolica in Francia ma a zero a tutti i vescovi ma il primo console perché siamo prima dell'impero ma dopo rimarrà valido anche con l'impero il primo console si mantiene il diritto di scegliere lui i vescovi ma poi i parroci vengono nominati dai vescovi quindi è un accordo che accontenta tutti e la chiesa cattolica è abbastanza contenta e quindi Napoleone si guadagna anche il consenso della chiesa cattolica ultima cosa vi dicevo reprime ogni dissenso in effetti Napoleone varia una politica molto dura contro chi gli si oppone vengono esiliati e arrestati molti oppositori politici vi ho detto anche i plebisciti vanno molto bene ma sono plebisciti in cui ci sono forti pressioni non è una vera espressione di democrazia e poi Napoleone si assicura anche il controllo su tutto il territorio francese creando un nuovo corpo di funzionari e lui molto fedeli i cosiddetti prefetti un corpo che avrà grande successo verrà replicato anche in altre parti d'Europa anche in Italia i prefetti erano funzionari scelti direttamente da Napoleone e che rendevano conto direttamente a Napoleone che vengono inviati in ogni dipartimento in modo da controllare la Francia in maniera molto molto capillare c'è da dire anche che Napoleone poi oltre a queste manovre repressive vada anche delle riforme importanti riforme che in parte cercano anche di mantenere vivi alcuni elementi della rivoluzione Napoleone è vero che accentra i poteri che diventa un imperatore un dittatore e sembra per certi versi ritornare all'antico però per altri versi mantiene vive alcune delle conquiste della rivoluzione francese ad esempio investe molti sforzi sulle scuole soprattutto sulla formazione di alto livello per formare funzionari giuristi ingegneri tecnici che lavorino per lo Stato e quindi insomma la cultura viene rafforzata e più soprattutto nel 1804 viene valato il codice civile chiamato anche codice napoleonico è una raccolta di tutte le leggi francesi riordinate sistemate cancellando le varie imprecisioni le varie contraddizioni tipica mossa se vi ricordate da despoti illuminati ecco fedele agli dell'illuminista questo codice napoleonico effettivamente è un punto d'arrivo importante della rivoluzione perché poi mantiene molti diritti che erano stati sancitti durante la rivoluzione francese ad esempio le libertà individuali ad esempio l'abolizione del feo d'alesimo ad esempio la difesa della proprietà privata eccetera quindi è un codice che consente di legalizzare e istituzionalizzare almeno alcune delle conquiste della rivoluzione la pace però non dura a lungo già nel 1803 riprende la guerra e Napoleone però bisogna dirlo ottiene importantissime vittorie una battaglia particolarmente rilevante che vale la pena ricitare arriva nel 1805 la battaglia di Austerlis famosa anche come battaglia di tre imperatori perché per riconfrontarsi Napoleone è una parte che ormai è imperatore l'Austria e la Russia avevano lo zar e l'imperatore questa battaglia volge a favore di Napoleone che sconfigge Austria e Russia ha una conseguenza importante per l'Europa centrale perché di fatto provoca la fine del secolare sacro romano impero germanico quello degli ottone di Carlo Magno anche in un certo senso un impero secolare che durava da quasi un millennio e che per adesso viene definitivamente cancellato e sciolto perché Napoleone non vuole più un'entità di questo tipo anche se debole di fianco al posto del sacro romano impero germanico viene costituito una viene chiamata confederazione del Reno cioè una sorta di confederazione tra i vari stati tedeschi però controllata praticamente dai francesi quindi sotto legida francese quindi grande vittoria in Italia come vi dicevo si erano riformate le varie repubbliche ma adesso la situazione si evolve nasce un regno d'Italia sempre sotto mano francese anzi molte zone dell'Italia vengono anche direttamente annessa alla Francia e però questo atteggiamento Napoleone con tutta Europa inizia a piazzare in vari stati controllati dai francesi i suoi parenti suoi fedelissimi oppure annetterli direttamente questo avviene appunto con delle fette d'Italia ma ad esempio il regno d'Italia che viene formandosi con le parti d'Italia non annesse la Francia la Francia viene affidata al figliastro di Napoleone che si chiama Eugenio di Boarnet l'Olanda ad esempio viene affidata a uno dei fratelli di Napoleone la Spagna viene affidata a un altro dei fratelli di Napoleone il regno di Napoli viene affidato al cognato di Napoleone Gioacchino Murat insomma Napoleone piazza parenti proprio con una sorta di nepotismo diciamo in tutte le principali zone d'Europa controllate dalla Francia in modo che queste zone vivano di riflesso rispetto alla Francia servono alla Francia aiutino la Francia chiaramente questo provocherà anche delle reazioni perché gli spagnoli non sono contenti di essere controllati dai francesi avere di tutto un re francese e sostanzialmente essere uno stato vassallo della Francia lo stesso dicasi per certe zone d'Italia per zone della Germania controllate eccetera questo provocherà delle reazioni ma questo è intanto quello che Napoleone riesce a fare l'unico stato che mantiene una certa autonomia una certa indipendenza è la Russia che è talmente lontana che Napoleone non ha particolari interessi per il momento a intervenire fin là c'è da dire che quindi Austria sconfitta sostanzialmente ridimensionata la Prussia è molto ridimensionata Spagna non esiste Olanda non esiste Italia non esiste c'è un unico grande nemico perché la Russia si è messa alla tranquilla c'è un unico grande nemico che rimane sulla scena che è l'Inghilterra e proprio per sconfiggere l'Inghilterra Napoleone tenta l'ultima grande mossa nel 1805 Napoleone aveva provato a sconfiggere gli inglesi sul mare c'era stata la famosissima battaglia di Trafalgar dove però in realtà i francesi erano stati sconfitti durissimamente la battaglia di Trafalgar viene vinta dalla flotta dell'ammiraglio Nelson ancora lui che però tra l'altro muore proprio in questa battaglia però vince quindi Napoleone capisce che l'Inghilterra non è veramente battibile sul mare Napoleone è fortissimo sulla terra non è altrettanto forte sui mari quindi bisogna trovare un'altra via per sconfiggere l'Inghilterra che è l'ultimo grande nemico rimasto e infatti dal 1806 dall'anno dopo Napoleone cambia strategia decide di provare di nuovo a mettere in difficoltà l'Inghilterra dal punto di vista economico visto che ormai controlla una buona fetta d'Europa direttamente o indirettamente perché ci ha messo i suoi parenti in molte zone o comunque con la minaccia dell'esercito può fare obbedire molte zone per praticare quello che verrà chiamato il blocco continentale cioè di fatto proibisce all'Europa continentale di commerciare con l'Inghilterra l'idea è quella di prendere l'Inghilterra per fame tagliarle i commerci tagliargli gli approvvigionamenti in modo che ad un certo punto l'Inghilterra in difficoltà economica dovrà scendere a patti con Napoleone e dovrà scendere a più miti consigli questo blocco continentale viene fatto partire nel 1806 come va? va benino anche se poi in realtà Napoleone non riuscirà mai completamente a controllare le coste e impedire tutti i commerci certo ha una grande forza di persuasione come vedremo però ci saranno stati come la Russia che a un certo punto tenteranno di uscire da questo blocco continentale comunque per rafforzare questa sua idea questo suo progetto c'è da dire che anche tra il 1810 e il 1812 Napoleone mette in campo anche una forte portata diplomatica contro gli stati ancora liberi nel continente in particolare ad esempio arriva addirittura a cercare di cementare questa strategia diplomatica con un matrimonio lui si era da tempo sposato con Giuseppina Bonaparte una donna tra l'altro già madre di Eugenia che abbiamo già citato molto amata ma per motivi di stato per motivi di politica divorzi della Giuseppina e si sposa con Maria Luisa d'Austria erede degli austriaci tra l'altro nipote di Maria Antonietta la regina che era all'inizio della rivoluzione francese molto odiata dai francesi non volevo neanche detto anche lei a un certo punto bigliottinata e però questo è il paradosso tutto era cominciato con i francesi contro gli austriaci i francesi contro i re i francesi contro la regina austriaca adesso i francesi sono anche molto contenti della situazione però cosa si ritrovano? un imperatore che assomiglia per certi versi un re che si sposa una regina austriaca capite come il cerchio si chiuda comunque Napoleone sposa Maria Luisa anche perché Giuseppina non gli aveva dato figli e così è convinto di aver cementato ancora meglio l'alleanza con l'Austria in chiave anti-inglese c'è da dire che in questo periodo Napoleone si premura anche di cercare di esportare alcune delle riforme che ha fatto in Francia anche nei paesi vicini ad esempio il codice napoleonico di cui vi ho già parlato viene steso a molte delle zone controllate dall'esercito napoleonico comunque afferenti alla Francia a volte queste riforme come il codice come altre riforme diciamo così di stampo illuministico hanno un certo successo ma in generale i paesi controllati da Napoleone come vi dicevo iniziano a maturare un sentimento di fastidio per l'occupazione francese nascono dei movimenti che potremmo già chiamare nazionali in Spagna nasce una vera e propria rivolta in Germania ci sono già spinte nazionalistiche perché? perché vorrebbero staccarsi da questa influenza francese in particolare vengono varate in questi anni attorno al 1812 anche un paio di costituzioni volute dagli inglesi alternative a quelle francesi una a Cadice in Spagna l'altra in Sicilia che vorrebbero proporre un modello di governo diciamo costituzionale alternativo a quello francese insomma Napoleone certo domina è fortissimo un esercito fortissimo ma qualche malcontento nei suoi domini c'è proprio la questione russa inizia a preoccupare Napoleone vi ho detto che la Russia a un certo punto non vuole più stare nel blocco continentale e Napoleone decide quindi di dare una regolata alla Russia che sia da esempio anche per gli altri paesi perché ovviamente questo blocco continentale si regge sul fatto che tutti seguono le indicazioni di Napoleone se Napoleone mostrasse debolezza potrebbero tutti staccarsene allora nell'estate del 1812 Napoleone organizza una grande campagna militare contro la Russia raccogliendo un esercito anche molto variegato perché prende su uomini da vari paesi controllati e si dirige verso la Russia la tattica di Napoleone in moltissimi casi in tutte le sue campagne era stata una tattica abbastanza innovativa che aveva fruttato grandi successi ma era una tattica che si basava anche in buona misura sugli approvvigionamenti in loco cioè quando Napoleone si spostava non si portava dietro le scorte di viveri di munizioni di cose all'infinito perché spesso andava a combattere anche lontano dalla Francia ma andava col suo esercito e requisiva sul luogo quello che serviva all'esercito al mantenimento dell'esercito questo l'avevamo visto anche in Italia in fondo anche in Italia c'era stata questa perequazione quindi si era preso quello che gli serviva ora qualcosa del genere vorrebbe fare anche in Russia qual è il problema che quando arriva in Russia con il suo esercito i russi consapevoli del metodo di Napoleone decidono di attuare una tattica diversa dal solito cioè di ritirarsi facendo terra bruciata cioè indietreggiano sempre di più tanto la Russia è lunghissima e ce n'è di spazio per indietreggiare indietreggiano sempre di più ma distruggendo i raccolti distruggendo le risorse del paese in modo che Napoleone non possa servissene così facendo Napoleone continua a seguire i russi i russi continuano ad indietreggiare c'è qualche scaramuccia ma senza riuscire a dare sconfitte recisive Napoleone arriva anche a Mosca ma comunque Mosca gliela lasciano e però a un certo punto Napoleone passa le settimane e dice qua adesso mi fregano perché sono partito in estate bel tempo si può marciare con l'esercito ma sta arrivando l'autunno e poi l'inverno siamo già a ottobre e nella steppa russa l'autunno e l'inverno sono letali tra fango neve ghiaccio eccetera bisogna tornare indietro quindi Napoleone ordina la ritirata ma a quel punto i russi passano a contraattacco con la cavalleria cosacca attaccano l'esercito napoleonico in fuga ormai anche un po' disorganizzata infliggono pesantissime sconfitte a Napoleone che torna indietro in Europa in fretta e furia con grandissima difficoltà i suoi nemici si organizzano subito perché appena sanno che Napoleone è incappato in una parziale sconfitta è il momento giusto per colpirlo si arriva a una guerra che viene combattuta nel 1813 una guerra una battaglia nel 1813 la battaglia delle nazioni cosiddetta che si combatte all'Ipsia e in cui tutti i nemici di Napoleone alleati lo sconfiggono Napoleone viene durissimamente sconfitto è la prima grande sconfitta vera su campo di battaglia campale diciamo di Napoleone dalla sconfitta i francesi non riescono più a riprendersi Napoleone si dirige verso la Francia viene inseguito di nuovo dalle potenze nemiche che praticamente sono pronti invadere la Francia la Francia non era mai stata invasa dalla rivoluzione passiamo al 1814 sono passati 25 anni e anche nei momenti peggiori si era arrivati vicino all'invasione ma la Francia non era stata invasa adesso paradossalmente dopo che Napoleone ha dominato tutta Europa sembra vicino al crollo e infatti nell'aprile del 1814 Napoleone è costretto ad abdicare per evitare che la Francia venga distrutta dai nemici abdica si consegna lui e i suoi nemici e rinuncia al titolo imperiale i nemici gli concedono l'onore delle armi lo esiliano decino a rimetterlo all'isola d'Elba quindi qui in Italia lui era della Corsica quindi non troppo distante l'isoletta piccola lì ti controlliamo stai lì buono intanto in Francia i nemici della Francia Inghilterra Ostia eccetera rimettono i Borbone Luigi XVIII cioè il fratello di Luigi XVI morto ormai vent'anni prima e passa prende il nome di XVIII perché vuole tenere in conto anche il figlio di suo fratello che però è morto da bambino quindi Luigi XVIII che tenta poi lo vedrete insomma una politica di compromesso in qualche misura Napoleone è all'Elba ma il consenso di Luigi XVIII è un nuovo re molto basso i francesi rimpiangono Napoleone e avrebbero voluto ancora lui quando Napoleone si accorge di questo decide di provare il colpo gobbo cioè scappa dall'isola d'Elba dopo pochi mesi in barca sbarca in Francia risale la Francia arriva a Parigi e si prende il potere Luigi XVIII scappa in Polito i francesi esultano perché non vedevano l'ora di vedere Napoleone tornare sul trono perché effettivamente Napoleone aveva un grande consenso chiaramente però appena Napoleone arriva a Parigi appena si diffonde la notizia i nemici di Napoleone Inghilterra, Austria Prussia eccetera si riorganizzano c'è una grande battaglia perché ovviamente bisogna misurarsi sul campo di battaglia la grande battaglia viene combattuta nel 1815 a Waterloo in Belgio la battaglia di Waterloo celeberrima in cui Napoleone perde di nuovo e questa volta in maniera definitiva lo prendono stavolta non lo mettono vicino alla Francia all'isola d'Elba e decidono di esiliarlo all'isola di Sant'Elena che è un dominio inglese in mezzo all'oceano lontano da tutti e da tutto in modo che da lì non possa più scappare sostanzialmente infatti Napoleone morirà sei anni dopo nel 1891 il famoso 5 maggio di manzoniana memoria quando ormai in Francia è stata ripristinata la monarchia tiriamo un po' le somme cosa è stato questo lungo periodo tra rivoluzione francese ed età napoleonica è stato un periodo di grandissimi cambiamenti 25 anni si è cambiato tutto e l'Europa non potrà più essere la stessa è vero che nel 1815 i stati i nemici Napoleone Austria Prusse eccetera tenteranno di restaurare l'ancien regime ma sarà un progetto bellitario che tramonterà quasi subito la rivoluzione francese ha lasciato il segno e non potrebbe essere altrimenti cosa è cambiato beh tante cose in primo luogo il regime feudale ha visto la sua fine ormai è impensabile continuare a ragionare in termini di regime feudale ci si riproverà non sarà così facile ma ormai è giunto la fine e quindi la nobiltà i feudi eccetera sono tramontati definitivamente seconda cosa sono entrati in scena le masse con i sanculotti prima con il consenso di Napoleone su frase universale le masse iniziano a essere nuove protagoniste e nell'ottocento ancora di più nel novecento diventeranno assolute protagoniste perché vorranno dire da loro vorranno partecipare alla vita politica vorranno incidere sulla vita politica non vorranno più stare a guardare tazza cosa si è creata anche per la prima volta sono creati i partiti politici le guerre ideologiche le ideologie politiche abbiamo visto con i giacobini eccetera cioè quando entri in gioco le masse entri in gioco anche i capi popolo in un certo senso ma anche le ideologie che si scontrano ed abbiamo visto anche qui ideologie liberali che vogliono ad esempio monarchie costituzionali ideologie democratiche come quelle dei giacobini presto arriverà anche il socialismo che ripartirà un po' da alcuni semi sparsi durante la rivoluzione francese insomma ideologia politica anche lotta e anche odio politico diventeranno protagonisti l'evento del terrore di questa persecuzione dei nemici purtroppo diventerà una non dico normalità ma un evento relativamente frequente nella storia europea e mondiale di odio verso il nemico politico anche e quindi di grande forza in più c'è da dire questo ci sono anche nuovi strumenti come il plebiscito abbiamo detto con Napoleone Napoleone ricorre frequentissimamente al plebiscito elezioni democratiche all'apparenza ma poi democratiche fino a un certo punto perché servono più che altro a creare consenso non sono del tutto libere entra in gioco anche il tema del consenso chi governa governa non più per volere divino ma governa fin tanto che ha un consenso popolare fin tanto che il popolo lo vuole lì quindi anche perfino i più feroci dettato dittatori tenteranno da lì in poi comunque di guadagnare il consenso delle folle il consenso delle masse e a volte ci riusciranno con pratiche non poi così di simili da quelle di Napoleone quindi come vedete grandi cambiamenti anche nuove organizzazioni dello Stato perché Napoleone con i prefetti con la burocrazia con il codice civile effettivamente struttura lo Stato in maniera nuova e questi effetti si vedranno soprattutto nell'Ottocento in tutta Europa ecco questo secondo me era quello che c'era da dire su questa lunga fase spero di averlo detto in maniera chiara spero di essere stato anche dentro un'ora di video perché non ho adesso qui il minutaggio esatto ma più o meno sì e spero che quindi il percorso la panoramica vi sia abbastanza chiaro davanti agli occhi ci fermiamo qui in descrizione trovate i titoletti che sono comparsi qui mentre spiegavo che vi permettono di ascoltare un pezzo o un altro della spiegazione trovate i link anche ai video più approfonditi se volete vederli con calma e capirli meglio questo è un video di ripasso sostanzialmente e infine trovate anche i link ai social network alla newsletter settimanale e altre risorse utili se volete continuare a seguire questo canale ho finito ciao alla prossima